tac amici pazienti è il ritorno del sabato food porn attenzione 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 mi cade tutto attenzione attenzione iniziamo con attenzione questo sapete già cos'è probabilmente crispy mac wrap a la 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 mamma mia che spettacolo che tra l'altro non riesco neanche ad aprire c'è sono modalità questi mac wrap aperto eccolo qua buon appetito si presenta bene devo dire al ragazzo è buono buono sapete anche voi che il bacon sta bene puntutto no un po come la maionese non male che non ho la pancreatite acuta e cronica e no c'è un andiamo a fissare la quota proteica mi dici come scrocia bene buono buono tanta roba buono sal段ese ecco i gasti non uguale suf rush fimm 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 us fimm 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 Grazie a tutti. E buon appetito, me l'ho dimenticato. Dopo questa terza laurea in dietistica ho ancora più fame. Sa perché? Sarà un effetto dell'ipotalamo. L'ipotalamo gioca brutti scherzi. No, scherzo, non è vero. Canucine. Cocchina. Tac. E ci hanno dei signori anche qua, eh. Proseguiamo perché le proteine non sono ancora fissate al massimo. E abbiamo qui isola per i caldi. Oh, i McNuggets. Oh, bene, bene. Assaggiamo. Buoni come sempre. Ma, in più... Vabbè, esserci la salsina. Tanta roba anche qui, eh. Tac, la maionese. Uova fresca e ci sta. Tac. Tac. Facciamo il puccione. Si puccia il biscottone. Tac. Buoni. Ciò è di scioglievolezza. Sto letteralmente godendo. Come fantotti. No, buoni comunque. Sti sgarri ci stanno. Scusate, non si parla con la bocca piena. Poi cibo caldo è un lusso. Poi cibo caldo è un lusso. buono buono ma c'è una grande altra sorpresina che ho detto che provo oggi ovverosia ho detto proviamole ovverosia le mitiche fries cheddar e un pochettino una spolderata di bacon pensavo fossero più grandi invece proteine le assaggiamo un profumino buone buone approved un voto che va dall'8 al 9 buone sono malvagia appetitose se riuscite a tirarle su perché il cheddar forma una maglia proteica oh buone